e dunque e dunque ci siamo ancora siamo i gironi siamo i gironi e questo non era non era scontato e la juve batte 2 a 0 il koge e passa dunque supera i play off per il secondo anno di fila la juve torna a portare l'italia comunque i gironi quest'anno in compagnia perché io sono convinto che la roma ha già vinto 2 a 1 a praga e domani sarà una formalità quindi la roma sarà la seconda squadra italiana ad andare in champions che dire sono molto contento sono molto contento perché non era scontato non era scontato perché a differenza ad esempio della roma la juve ha avuto un sorteggio veramente possiamo dire brutto brutto per maniera lo diciamo in maniera abbastanza cioè un sorteggio non comodo perché il koge è una squadra che l'anno scorso era arrivata ai gironi e non era riuscita a passare solo perché aveva avuto degli squadroni nel gironi ma era comunque aveva fatto comunque una bellissima figura ai gironi quindi una squadra che è esperta una squadra che sa cosa vuol dire giocare la champions squadra che poi il calcio danese insomma anni che gioca che gioca ad alti livelli come calcio tipo di calcio quindi sono contento sono contento perché onestamente non era scontato non era scontato e tra l'altro ad esempio pensiamo conto il coups finlandese è riuscito a portare sempre oltre nei supplementari se porten si è qualificato i supplementari ci sono tante belle squadre che sono passate stavo dando un'occhiata adesso c'è tra l'altro i supplementari tra ci sono i supplementari di rangers benfica perché rangers sono riusciti a lisbona a segnare il gol del 1 a 0 e quindi stanno andando anche clamorosamente i supplementari c'è blanzia che abbiamo già affrontato l'anno scorso cielo zurigo che secondo me sono squadre affrontabili come lo slavia forse insomma adesso bisogna vedere un po la composizione anche dei gironi perché bisogna vedere in che fascia siamo probabilmente potremmo essere anche in seconda fascia e questo sarebbe non nascondiamoci sarebbe fondamentale per ci assognare il passaggio del turno e però intanto noi ci siamo ci siamo questi gironi ci siamo regalati altre altre notti bellissime partita ma in discussione però si sta vedendo ancora che questa squadra ha fatto una preparazione molto in ritardo si vede per vari motivi e anche per scelta perché bisogna anche dire quello però alla fine finora stiamo raccogliendo in campionato abbiamo buttato via mio modo di vedere quattro punti perché con l'interessa solo potevano vincere ma i punti in campionato in questo momento li puoi anche ti puoi anche permettere di lasciarli con il nuovo sistema del campionato perché poi c'è tutto un girone in più dopo no quando si giocheranno la pur scudetto tu affronterai tutte le big in pochissimo tempo e però sei lì comunque due punti dalla prima in campionato e sei ai gironi di champions che era l'obiettivo dichiarato per iniziare la stagione bene gunasdotti il migliore in campo secondo me che ha segnato benissimo lenzini insieme a gunasdotti e le due migliori sono contento per il gol di cantore stavo dicendo se devo trovare una pecca a questa squadra è che da inizio campionato e da inizio stagione facciamo una fatica bestiale a chiudere le partite col sassuolo ad esempio abbiamo visto quanto questa cosa poi possa veramente pagare pagare in maniera negativa ovviamente quindi bisogna chiuderle prima c'è poco altro da dire complimenti al coge che comunque adesso sono un'ottima squadra e adesso vedremo poi chi capiterà nei gironi domenica c'è il pomigliano non farò il video perché non sono a casa e bisogna vincere insomma ragazzi col pomigliano bisogna portarvi a punti perché è fondamentale è vero abbiamo possibilità di recuperare quello che volete però non dobbiamo perdere troppi punti le abbiamo già persi quattro che onestamente sanguinano e pesano perché stati quattro punti buttati a mio modo di vedere soprattutto con il col sassuolo con il col sassuolo sono stati proprio presi e cestinati e per questo motivo dico assolutamente col pomigliano bisogna vincere e complimenti alle ragazze complimenti a mister montemurro la juventus per il secondo anno di fila e i gironi di uefa volumens champions league ci divertiremo per altre notti tra l'altro bellissima cornice quella dello stadio mokagata attenzione che potrebbe essere lo stadio di casa perché quest'anno con la champions maschile molto compressa non so se le women riusciranno a giocare allo stadio mi auguro per loro sì però potrebbero essere spostate al mokagata che comunque dimostrano di essere una cornice degna di questa competizione però se ci sarà champions il campo magari curiamo un po' meglio fino alla fine forza juventus juve batte koji 2 a 0 le reti di gunas dotir e di cantore fino alla fine forza juventus women Grazie a tutti.